Un buon pomeriggio dalla redazione di Florens Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bibio per la variante di Valico. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. Sulla Fibili per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Sulla regionale Due Cassi a senso unico è alternato il restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 268 nel comune di Barberino Tavarnelle. Buorsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!